Anche quest'anno UNO TV saluta questi mesi del 2022 tracciando un bilancio dei temi che hanno maggiormente attirato l'attenzione del comprensorio ma anche per poter lasciare un augurio speciale in vista dell'inizio del nuovo anno. Questa sera a partire dalle ore 20 e 15 al termine del nostro TG andrà in onda la trasmissione di fine anno aspettando il 2023 prodotta da UNO TV su iniziative dall'idea dell'editore Valentino Di Brizzi per ascoltare la voce dei protagonisti del 2022 e lasciare gli auguri ai cittadini per il nuovo anno che tra pochi giorni accoglieremo. Vi terremo compagnia in questa serata di vigilia con le repliche in programma anche nei prossimi giorni ascoltando la voce delle istituzioni, della scuola, delle associazioni, degli imprenditori, di commercianti e di quanti operano sul territorio e con l'allegra musica di Pino Pinto e la sua band che allieterà alcuni momenti della trasmissione con le musiche natalizie in un mini concerto. Una lunga maratona in cui sono stati affrontati con gli ospiti in studio temi come la sanità, il turismo, le infrastrutture, il commercio ma anche occasione per riflettere e per lasciare messaggi importanti. Unità territoriale, orgoglio e amore per il Vallo di Diano e consapevolezza nel valore e nelle potenzialità che l'intero comprensorio esprime tra eccellenze, storie e cultura. Sono stati diversi gli ospiti che hanno voluto mettere in evidenza, come tutto il Vallo di Diano, ha tanto da dare e che non ha nulla da invidiare ad altre realtà. I problemi e le difficoltà per gli ospiti di Aspettando il 2023 sono in molti casi comuni a tantissime altre aree, mentre le eccellenze e le bellezze che il territorio esprime sono uniche e di grande valore, meritevoli però di maggiore attenzione da parte dei cittadini affinché si riesca a trarre meritati vantaggi. Seguiteci quindi questa sera su Uno TV a partire dalle ore 20 e 15 per ascoltare il Vallo di Diano. Aspettando il 2023 sarà poi trasmesso in replica anche nei prossimi giorni e sarà visibile anche sui nostri canali web e sul nostro sito internet www.unotvweb.it